Diciamo che è stata una scelta facile perché conosco il progetto di questa società. Il direttore è forse stata la persona che mi ha voluto più fortemente. Mi ha trattato da una settimana questa parte, mi sta trattando sempre con molto rispetto, con molta gioia che io sia qui e questa cosa mi sta rendendo conto che ho fatto la scelta giusta. Credo che posso dare il mio meglio nel mio ruolo naturale, che magari l'esterno alto ha tre, però anche negli ultimi tre anni tra i vari allenatori che sono passati a Torino mi hanno sempre giocato 3-5-2 e quindi negli ultimi tre anni ho sempre giocato la seconda punta ed è un ruolo che sta entrando in me anche perché non voglio essere un giocatore monomodulo ma voglio imparare a fare più ruoli possibili per aiutare sempre di più la squadra in qualunque situazione. Fisicamente sto bene, ho avuto il virus subito dopo la seconda partita di campionato dove appunto giocai. Dopo un mesetto fermo, quando rientrando ho avuto qualche affaticamento muscolare però adesso sto bene, mi sto allenando con la squadra già da una settimana, quindi sto bene e mi sento bene. Beh diciamo che con il mister Coppitelli è stato l'ultimo anno di settore giovanile in primavera ed è stata diciamo la mia consacrazione nel calcio dei grandi, ecco. Con lui feci molto bene, ci divertimmo insieme, mi faceva stare bene, mi sentivo libero di esprimere le mie caratteristiche e lo ringrazio perché questa è la verità, perché magari senza di lui, magari fosse stato passato un altro allenatore, magari ora non sarei qui. Al Frosinone ci credo, voglio raggiungere tutti gli obiettivi possibili, sia personali che di squadra e spero che sia una stagione piena piena di emozioni che ci toglieremo grandi soddisfazioni. Grazie a tutti.